Volevo mandare un saluto agli amici di IDOS per questo nuovo anno insieme, un nuovo anno fatto di numeri, di statistiche ma soprattutto di verità. C'è profondo bisogno di verità perché solamente con i numeri, con le prove oggettive e inconfutabili possiamo mettere in un angolo l'odio e l'intolleranza. I ragazzi e le ragazze di IDOS sono stati miei compagni di viaggio per un pezzettino di strada importante insieme a Luca di Sciullino che saluto e sono sicuro saranno fondamentali in tante altre battaglie perché ora più che mai c'è bisogno di rimanere uniti senza differenze, senza rimarcare i passaporti e le provenienze e allora IDOS ci serve a questo, a spalanzare le braccia e ad essere accoglienti nella nostra vita con la verità e per la verità. Grazie IDOS e un buon anno al nuovo dossier che sarà sicuramente fondamentale per tante e per tanti.